ok ragazzi da posto avete avuto problemi anche oggi con i treni ieri c'era un disastro mi hanno raccontato giusto ok ragazzi da posto avete avuto problemi ok possiamo partire 31 direi perfetto e andiamo allora oggi dividiamo le lezioni in due parti prima parte nella quale vi racconto cerco di raccontarvi una cosa importante che utilizzerete tantissimo nel secondo semestre all'interno di microeconomia e questa cosa importante è legata al fatto che se ci pensate un attimo quello che noi abbiamo visto ieri sono delle tecniche analitiche ok quindi delle derivate derivate prime derivate seconde gradiente matrice siana che ci permettono di calcolare solo il massimo locale e il minimo locale ok un qualcosa che è relativo se volete utilizzare massimo relativo e minimo relativo ma a noi se abbiamo un qualcosa che ha a che fare con l'economia ce ne frega gran poco il massimo relativo il minimo relativo io voglio trovare il massimo assoluto e il minimo assoluto massimo assoluto ad esempio se devo massimizzare un profitto minimo assoluto se voglio minimizzare ad esempio dei costi ok quindi non mi interessa niente andare a finire in un punto di minimo locale o di massimo locale vorrei andare ad individuare il massimo assoluto globale o minimo assoluto o globale ok e la domanda è ma com'è che posso farlo posso farlo o non c'è verso di farla questa cosa qui perché le tecniche che abbiamo insegnato fino a ieri ci portano solo ed esclusivamente ad arrivare a un qualcosa che è locale nella seconda parte della lezione invece quindi la prima parte andremo a risolvere questo problema qui e introdurremo il concetto di concavità e convessità per funzioni più variabili nella seconda parte della lezione invece andremo a prendere le domande di teoria ok vi ricordate che nel mio compito quindi chi ha canale feo e canale pz hanno come domande di teoria quattro domande la prima è sulla composizione di funzioni la seconda è sui teoremi alcuni teoremi fondamentali vaiestras lagrange roll e così via la terza ha a che fare con i vettori linearmente dipendenti linearmente indipendenti la dimensione del sottospazio vettoriale generato e così via la quarta domanda di teoria le guardiamo oggi e come vedremo oggi tra un po nella seconda parte della lezione avranno a che fare in modo molto rilevante con le condizioni necessarie e sufficienti per ottimizzazione libera bene andiamo con il primo argomento allora e scriviamo con cavità e con vessità partiamo da un qualcosa che conoscete benissimo n uguale a 1 quindi abbiamo una funzione f definita in un intervallo a b a valori in r e adesso vi chiedo quando questa funzione è concava attenti mi raccomando devo partire da un intervallo per chiedermi se la funzione è concava devo partire da un insieme che è convesso così come per chiedermi se la funzione è convessa devo sempre partire da un sotto insieme convesso allora sia che sia concava sia per chiedermi se la funzione è concava sia per chiedermi che la funzione è convessa devo partire dal dominio che è un insieme convesso di r e tu i sotto insieme convessi di r sono solo ed esclusivamente gli intervalli per quello scritto definite in a b ok ci fa un po casino all'inizio si fa casino lasciate un attimo stare ok e pensate che sia definita in a b vi assicuro che sia per la definizione di concava sia per la definizione di convessa serve che il dominio della funzione sia un insieme sempre convesso sia per concava che per convessa e insieme i convessi di r sono solo ed esclusivamente gli intervalli ma vi ripeto se vi fa casino mettetelo da parte l'ho scritto in giallo apposta e pensate solo ad una funzione definita in a b e ditemi quando è concava quando è che è concava una funzione come fatta controllare che una funzione concava f secondo dx minore uguale a 0 dove per ogni x appartenente del dominio di f sono d'accordo con te e convessa maggiore uguale siamo d'accordissimo quindi abbiamo una tecnica potentissima per capire se una funzione concava o convessa queste vengono che vengono chiamate condizioni al secondo ordine perché perché coinvolgono le derivate seconde ok ma domanda ma c'è un qualcosa che caratterizza le funzioni adesso concentriamoci su quelle concave ok c'è un qualcosa che caratterizza le funzioni concave al primo ordine e quindi con la derivata della derivata prima non seconda ma prima e cioè posso dire qualcosa posso dire qualcosa sulla derivata prima della funzione che mi garantisce che la funzione concava non è facilissimo intanto ok e come vedremo tra un attimo è abbastanza complesso da scrivere in forma matematica ma in forma invece grafica penso che lo capiamo subito allora quando vi parlo di derivata prima cosa che vi viene in mente cos'è la derivata prima il coefficiente angolare di chi? no? della funzione? non della funzione? quando parlo di derivata prima è il coefficiente angolare della retta tangente quindi la prima cosa che vi viene in mente è proviamo a disegnarci le rette tangenti vediamo cosa succede la disegno in questo punto poi la disegno in questo punto poi la disegno in questo punto notate qualcosa di particolare guardate come si mettono le rette tangenti rispetto alla funzione ogni volta che disegno una retta tangente la funzione è tutta sotto ok? è certo quella lì la caratteristica di queste funzioni delle funzioni concave è che qualsiasi sia la retta tangente il grafico della funzione sta tutto al di sotto della retta tangente adesso dobbiamo scriverla questa cosa qua in matematichese ok? ok prendo un punto x mi calcolo la retta tangente in quel punto x poi prendo un altro punto x e confronto il valore della funzione con la retta tangente e devo dire che il valore della funzione è al di sotto della retta tangente allora adesso vediamo un attimo intanto scriviamoci la retta tangente chi è che si ricorda come si fa la retta tangente al grafico di una funzione ve lo scrivo io f' di x star vedete la sto calcolando nel punto x star quindi ho preso il coefficiente angolare per x meno x star più f di x star adesso vi convinco che questa è veramente la retta attenti vedete intanto che è a grado 1 in x questa è la y questa è la x questa è a grado 1 chi è il coefficiente angolare? beh eccolo qua ok e quindi il coefficiente angolare di quella retta coincide proprio con la derivata prima della funzione in quel punto che è il coefficiente angolare della retta tangente quindi non fa una piega e guardate che passa per il punto x f di x star perché? perché se io al posto di x metto x star vedete subito che il primo addendo diventa uguale a 0 e quindi se io calcolo quella retta lì nel punto x star ottengo f di x star quindi è una retta che passa per il punto x star f di x star per questo punto qui lo vedete? ed è tangente perché il coefficiente angolare è uguale alla derivata prima della funzione in quel punto ci sei Fabio? torna lo trovo veloce mi avete seguito? bene adesso guardate cosa dobbiamo dire? che per ogni retta tangente per ogni x star appartenente al dominio di f e per ogni altro punto x che appartiene al dominio di f il valore della funzione sta al di sotto della retta tangente calcolata nel medesimo punto vedete? vado a calcolare la retta tangente la funzione in questo punto e in questo punto nello stesso punto che ho cerchiato in giallo calcolo la funzione e la retta tangente e quello che sto dicendo è che il valore della funzione è sotto vedete che sotto è al di sotto della retta tangente questo per ogni f di stare in cui vado a calcolare la retta tangente io sono sicuro che qualcuno di voi sta dicendo ufficio complicazioni cose semplici e cioè avevamo una condizione bellissima che bastava controllare il segno della derivata seconda e capivo tutto al volo e questo adesso si è inventato sta roba della retta tangente che mi fa un casino della madonna abbiate fede e portate un attimo di pazienza e perché tra un attimo capiamo a cosa serve tutto questo pasticcio che ho fatto osservate quello che sto cercando di raccontarvi è che due scrivo due perché fa riferimento alle derivate seconde e uno sono esattamente la stessa cosa e cioè se voi riuscite a dimostrare che una funzione è concava perché la derivata seconda della funzione è sempre minore o uguale a zero in ogni punto appartenente al dominio della funzione allora non avete nessun problema a dire anche che vale quella sotto e cioè che comunque io metto la realtà tangente la funzione sta tutta al di sotto ma adesso succede un fattaccio un fattaccio non un fattaccio una cosa interessante pensiamo che pensiamo a due cose la prima f è concava l'abbiamo dimostrato in qualche modo ad esempio derivata seconda minore o uguale a zero in ogni punto del dominio e pensiamo di trovare un punto che chiamo x star tale che f primo di x star è uguale a zero trovo un punto che annulla la derivata prima a priori potremmo dire qualcosa di questo punto cosa che potremmo dire beh attenti se la funzione dimmi allora è un punto di massimo intanto sicuramente è un punto di massimo locale per adesso perché perché se la funzione è concava noi sappiamo che f secondo nel punto di x star è certamente minore o uguale di zero ok tu sei hai fatto un passettino in più e il vostro collega mi ha detto quindi quindi quello che sappiamo pensando pensando alle cose di ieri è la seguente cosa che x star è un massimo locale ma il vostro collega mi ha detto non è solo un massimo locale è un massimo globale sto d'accordo con lui attenti guardate per convincervi di questo vi scrivo esattamente questa cosa qui e poi andiamo a calcolarcela nel punto x star allora siete d'accordo che se la funzione è concava allora vale uno o vale due è la stessa cosa scrivere uno scrivere due è la stessa cosa noi l'abbiamo provata utilizzando due perché è più comodo calcolare la conversità e la concavità con la derivata seconda ma potremmo avremmo potuto tranquillamente provare la concavità e la conversità concavità in questo caso anche con la uno perché sono due definizioni equivalenti di funzione concave ma adesso abbiamo qualcosa in più abbiamo che la funzione è concava e abbiamo trovato un punto che soddisfa le condizioni necessarie al primo ordine e cioè derivata prima uguale a zero quello che sappiamo è che f di x è minore o uguale di f di x star x meno x star più f di x star questo lo sappiamo sempre perché se la funzione è concava in ogni punto in cui io calcolo la retta tangente la funzione sta sempre sotto ma attenti adesso io sto utilizzando non un punto qualsiasi ma sto utilizzando proprio quell'epsilo quell'x star che mi rende zero la derivata scusate per ogni x appartenente al dominio di f ma io adesso sto utilizzando proprio l'x star vedete che mi rende zero la derivata prima ma allora vuol dire che questo pezzo qui è zero perché zero per qualsiasi cosa fa zero e quindi quello che ottengo è che f di x è minore o uguale di f di x star e questo per ogni x appartenente al dominio di f mannaggia cosa che abbiamo appena detto se f guardate abbiamo scritto che se io calcolo la funzione in un qualsiasi punto del dominio questa è più piccola del valore della funzione in x star è esattamente quello che ha detto il vostro collega prima x star non è solo un massimo locale ma è anche un massimo globale mi avete seguito? provo a ripetere? allora ripeto abbiamo due tecniche per dimostrare che una funzione è concava derivata seconda minore o uguale a zero in ogni punto del dominio e seconda condizione retta tangente in ogni punto della funzione sta tutta al di sopra nel grafico della funzione sono del tutto equivalenti quindi se io provo uno vale l'altro se io provo quello sotto vale quello sopra noi di solito utilizziamo quello sopra e infatti utilizzando quello sopra pensiamo di essere riusciti a dimostrare anzi siamo riusciti a dimostrare che la funzione è concava non solo ma abbiamo trovato anche un punto che soddisfa le condizioni necessarie al primo ordine derivata primo uguale a zero e uno dice beh allora a questo punto se la derivata seconda è minore o uguale a zero in quel punto in tutti i punti quindi anche in quel punto e la derivata prima è uguale a zero il punto è sicuramente un massimo locale ma io vi ho detto piano no avete di più informazioni non sapete che la funzione è concava che la derivata seconda è negativa solo in quel punto voi sapete che è negativa in ogni punto del dominio e questo vi garantisce qualcosa di più vi garantisce che vale anche uno e cioè se calcolate la retta tangente proprio nel punto in cui la derivata prima si annulla questa retta tangente mi diventa parallela all'asse delle x e la funzione sta tutta sotto ma allora vuol dire che quello è un massimo globale non solo massimo locale mi avete seguito? quindi è molto importante attenti dobbiamo pagare di più perché? perché dobbiamo controllare non solo che la derivata seconda sia negativa nel punto che annulla la derivata prima ma dobbiamo calcolare che la derivata seconda sia negativa in ogni punto del dominio quindi è un lavoraccio ma un lavoraccio che paga perché paga? perché mi permette di dimostrare che il punto non è solo un punto di massimo locale ma è anche un punto di massimo globale esempio in dimensione 1 adesso dimenticatevi che sapete disegnarla questa ok? dimenticatevi per un attimo che sapete disegnare e proviamo a ragionare solo in modo del tutto astratto seguendo il ragionamento che ho fatto prima allora questa f ha come dominio r che sicuramente è un insieme convenso l'intervallo di prima meno infinito più infinito ok? f primo di x uguale meno x più 1 f secondo di x uguale a meno 1 questo per ogni x appartenente al dominio quindi quello che ho dimostrato è che f secondo di x è minore o uguale a 0 per ogni x appartenente al dominio della funzione quindi ho appena dimostrato che la funzione è concava ci siete? attenti è concava perché la derivata seconda è minore di 0 non solo in un punto ma in tutti i punti del dominio bene ma questo ci dice una cosa importante questa cosa qui ci dice che se riusciamo a trovare un punto che annulla la derivata prima questo punto non solo è un massimo locale ma è anche un massimo globale ma attenti la derivata prima uguale a 0 mi fornisce meno x più 1 uguale a 0 e cioè x uguale a 1 e quindi senza fare nessun altro conto quello che io posso dire è che questo punto qui che cosa è che è? un massimo globale ed è lo strumento più facile per individuare punti di massimo globale o di minimo globale per una funzione essendo quello più facile sarà esattamente quello che utilizzere la lette in microeconomia vi è chiaro il ragionamento logico? adesso però l'abbiamo fatto per n uguale a 1 io non sono contento che per n uguale a 1 voglio farlo per n maggiore di 1 quindi per funzioni a più variabili allora prendiamo una funzione metto metto l'x scritto grosso scritto sottosegnato in maniera di ricordarmi che è x1 x2 xn ok x1 x2 funzioni più variabili e scrivo f di x attenti cosa vuol dire che un sotto insieme pensiamo nel piano cosa vuol dire che un insieme è convesso cosa vuol dire che un insieme è convesso allora tornate alle elementari ok sono sicuro che le elementari l'avete fatto e che le elementari l'avete fatto questa cosa era? una spezzata aperta la ricordate? sì e che avete rimosso tutto spezzata aperta poi avete detto questo è invece una spezzata chiusa perché il punto di partenza e il punto di finale coincidono poi avete detto questa è una spezzata chiusa ma è intrecciata e tra le spezzate chiuse non intrecciate avete cominciato a disegnare figure di questo tipo avete detto bello questo questo mi piace questo è una spezzata chiusa non intrecciata convessa perché questa qua era convessa vi ricordate il libretto delle elementari cosa diceva quando un insieme è convesso quando se io prendo due punti e traccio il segmento che li congiunge tutto il segmento sta dentro l'insieme ad esempio il cuore è un insieme che non è convesso perché se io prendo un punto qui e un punto qui e li congiungo mannaggia loro esco dal cuore ok gli insiemi convessi sono quelli che sono fatti circa così e cioè comunque voi prendiate anche sul bordo un segmento anche interno state tutti all'interno dell'insieme bene io penso che il nostro insieme di sia convesso che è la stessa cosa che vi ho scritto in giallo qui dicendovi che stiamo considerando un intervallo che è un insieme convesso detta questa che è una un qualcosa vedete che vi metto così in giallo e che non è rilevante per gli esercizi ma è importante da ricordare perché le funzioni concave le funzioni convesse vado a controllare se sono concave convesse solo se hanno un dominio che è concavo che è convesso ok attenti sia per le concave che per le convesse il dominio deve essere convesso ok dominio convesso allora posso controllare se la funzione è concavo o convessa bene attenti che cosa che chiederemo per controllare se una funzione di più variabili è concava beh dovrò guardare cosa se per una funzione di una variabile guardavo cosa guardavamo la derivata seconda allora per una funzione invece ha più variabili cosa è che è il corrispettivo della derivata seconda la matrice siana e cos'è che chiedevamo per la derivata seconda la derivata seconda chiedevamo che fosse per avere una funzione convessa derivata seconda minore o uguale a zero ma allora per la matrice siana cosa è che chiederemo che sia semidefinita come minore o uguale a zero semidefinita negativa mentre e quindi questo ci garantisce che la funzione è concava se invece la matrice siana è semidefinita positiva positiva mi raccomando ragazzi non basta un punto solo per ogni x appartenente al dominio della funzione f semidefinita semidefinita positiva derivata seconda maggiore o uguale a zero la funzione sarà convessa perché è importante questa cosa qui perché se io riesco a dimostrare che f è concava e trovo un punto in cui gradiente è uguale a vettore nullo cos'è che posso dire che questo punto è un bravissimo massimo globale mentre se f è convessa e in più ho che trovo un punto in cui il gradiente è uguale a vettore nullo quello che posso dire è che x star è un minimo globale ci siete tutti e tutte importante perché ragazzi allora attenti dobbiamo pagare di più sono d'accordo con voi perché dobbiamo controllare che la funzione sia semidefinita negativa non solo nel punto che annulla il gradiente ma in tutti i punti del dominio vedete ma otteniamo altrettanto di più e cioè il massimo è un massimo globale e non più locale e quindi abbiamo esattamente quello che serve a voi economisti trovare non un massimo locale che potrebbe essere che non potrebbe essere quello che ci serve ma becchiamo proprio il massimo globale dimmi tutto guarda là che ti ho vista chiacchierare dimmi tutto dimmi tutto no posto ragazzi ragazze ci siete mi avete seguito attenzione tra un attimo faccio tra un attimo faccio un esercizio ma prima voglio aggiungere qualcosina ragazzi e se mettessimo qua definita negativa perché noi sappiamo anche mettere definita negativa giusto e e se qui mettessimo definita positiva possiamo dire qualcos'altro può esserci utile attenti qui devo farvi una devo mettere a posto un qualcosa che vi ho detto ieri se vi ricordate ieri quando abbiamo fatto l'argomento di classificazione delle matrici essiane vi ho detto guardate ragazzi ragazze non è proprio giusto quando io dico matrice essiane semidefinita positiva semidefinita negativa definita positiva definita negativa indefinita teniamone queste cinque classificazioni ma non sarebbe proprio giusto perché perché se una matrice semi scusate se una matrice definita positiva definita positiva pensatelo come un maggiore stretto di zero allora sicuramente sarà anche semidefinita positiva maggiore uguale a zero e se una matrice è definita negativa minore di zero allora è anche semidefinita negativa minore uguale a zero ok quindi in realtà avrei dovuto ieri per essere più preciso e più pignolo dirvi le matrici si dividono in semidefinita positiva semidefinita negativa indefinita e all'interno delle semidefinite positive ce ne sono alcune che sono più belle che sono definite positive mentre all'interno delle semidefinite negative c'è un pezzettino in cui sono le definite negative che sono più belle delle altre tutti mi hanno seguito? in realtà fa più casino che altro quindi preferisco tenervele separate e così abbiamo le condizioni separate per ogni singolo oggetto ma è importante ricordare che se una matrice definita positiva naturalmente è anche semidefinita positiva e se semidefinita negativa automaticamente è anche definita negativa ok ma allora vuol dire che se io metto definita negativa vuol dire che sicuramente è concava ma ottengo anche qualcosa in più è strettamente concava ok è strettamente e qui è strettamente convessa e quindi il massimo globale che ottengo è stretto posso aggiungere questa cosa in più ci siamo attenti vado avanti allora fatemi mettere mettere a posto le cose le cose le cose che ho scritto ciao funziona più variabili adesso proviamo a fare il procedimento che prima abbiamo fatto per questa funzione n uguale a 1 ok proviamo a farlo per questa funzione a due variabili per la funzione a due variabili se voglio controllare se una funzione concavo con vessa devo prima calcolarmi il gradiente e cioè le due derivate parziali luca dove luca luca mi fai la prima derivata parziale per favore ottimo la seconda perfetto benissimo abbiamo calcolato il gradiente adesso sotto mi ricopio e riderivo rispetto a x e derivo rispetto a y quindi mi sto calcolando la matrice siana grazie a tutti grazie a tutti chi mi dà una mano fabio mi dai una mano a fare la allora la prima è la più caro ognuno te la faccio fare faccio fare a te vai no per 2 x ancora giusto bravissimo ottimo l'altra bravissimo bravissimo perfetto ottimo fabio bravissimo ok fabio c'è trovato la matrice siana attenti non in un punto particolare ma in un generico punto permettetemi di scrivere di fare un attimo di cosmesi matematica e scrivere di cosmesi matematica e se la scriviamo così di questo punto con il suo speak eMarco e se la matrice siana che la matrice siana è semidefinita positiva o semidefinita negativa per ogni X e per ogni Y, a questo punto sono sicuro che la funzione sarà rispettivamente, se prima avevo detto semidefinita positiva, convessa, se prima avevo detto semidefinita negativa, concava. Ma noi sappiamo come si calcolano i minori principali e anche i minori principali di guida. Scriviamo minori principali e minori principali di guida. Primo ordine, secondo ordine. Alberto, dove è Alberto? Alberto, ti ricordi come facciamo a fare i minori principali di guida? Cominciamo da là. Qual è quello di ordine 1? Bravissimo. Facciamo così, ti ricordi? Bravissimo. Prima posizione in alto a sinistra. E invece quello di ordine 2? Il determinante di tutta la matrice e quindi il moltiplico semplicemente per 2. minori principali. Quali sono? Lara, ti ricordi i minori principali? Bravissima. Gli elementi che stanno sulla diagonale e quindi abbiamo 2 e poi l'altro che è proprio 2X alla seconda che moltiplica 2X alla seconda più 1. sotto abbiamo naturalmente 4X quadro, 2X alla seconda più 1 e come vedete, come sappiamo, i minori principali sono di guida, sono alcuni tra i minori principali. Il 2 è un minore principale ma non è un minore principale di guida. Sappiamo dire qualcosa sul segno dei minori principali? Che segno hanno i minori principali lì? Sono sempre maggiori o uguali di 0. Li vedete? Attenti. 2 2 è maggiore di mi. Allora, certo. Allora, se devo fare semidefinita positiva, devo vedere maggiore uguale. Se invece devo guardare definita positiva, che è il passaggio che faccio tra un attimo, devo guardare maggiore stretto. Qui adesso 2 è maggiore o uguale a 0. 2 è X quadro che moltiplica 2X quadro più 1. Anche lui è maggiore o uguale a 0, certo. Perché vedete? Questo oggetto qui è sicuramente maggiore o uguale a 0. Perché è un esponenziale. L'esponenziale sappiamo che è strettamente positiva. Ora, questo qui è una parabola rivolta verso l'alto con delta negativo. Vedete? Parabola rivolta verso l'alto. Il delta è B quadro, cioè 0, meno 4 che moltiplica A2, C1 e quindi meno 8. Quindi una parabola rivolta verso l'alto è fatta così. Non tocca mai l'asse. E quindi il prodotto di due quantità positive è sempre positivo. Quindi possiamo tranquillamente dire che la matrice che in ogni punto del dominio, attenti, vedete che l'ho fatta per ogni X. Per ogni X, la matrice siana è semidefinita positiva. Come giustamente mi faceva notare il collega di Fabio, che non mi ricordo il nome, Filippo. Filippo mi diceva, prof, guardi che poteva fare anche di meglio. Perché se guardava i minori principali di guida, si accorgeva subito che questo è maggiore stretto di 0 e questo è maggiore stretto di 0. Quindi, oltretutto, non è solo semidefinita positiva, ma anche per ogni X, la matrice siana è anche definita positiva. Ma allora noi abbiamo una cosa molto interessante a questo punto. Perché abbiamo una cosa molto interessante? Perché ci rendiamo conto che se troviamo un punto in cui il gradiente è uguale al vettore nullo, se per caso riusciamo a trovare un punto stazionario per questa matrice, per questa funzione, che a questo punto è una funzione come? Definita positiva? Strettamente? Strettamente come? Sì. Convessa, ok? Definita negativa, strettamente concava. Semidefinita positiva, convessa. Semidefinita negativa, concava. Questo abbiamo detto che... Mi seguite, ragazzi e ragazze? Mi avete capito? Vi torna? Adesso, se troviamo un punto che annulla il gradiente, cosa che succede? Dobbiamo andare a controllare qualcos'altro. Assolutamente no. Perché questo punto sarà già che cosa? Un brava, minimo, globale, stretto, bravissima. E quindi adesso io faccio gradiente uguale a vettore nullo. Ottengo e x alla seconda 2x uguale a 0 in sistema con 2y meno 2 uguale a 0. Ma attenti, la funzione esponenziale sicuramente è diversa da 0 perché è sempre strettamente positiva. Quindi x uguale a 0, y uguale a 1. Abbiamo trovato un punto 0, 1 e di solito a questo punto dovremmo andare a calcolare la matrice siana in quel punto per calcolare, per vedere se è un punto di massimo locale, minimo locale, se è un punto candidato a massimo locale. No, no, no. Se sappiamo che la funzione è convessa, questo che cos'è? È il massimo globale stretto. Caspita, una grande... Guardate che è molto importante perché riusciamo a beccare esattamente quello che vi serve. A un economista serve trovare il massimo globale di una funzione e deve pagare un pegno però. deve utilizzare delle funzioni che siano intelligenti e cioè, se vuole... Ho sbagliato naturalmente, no? Cosa devo scrivere? Eh, sono perso per... Chiedo scusa. Ok. Minimo globale stretto. E chiaramente, convessa, minimo, concava, massimo. Attenti, ragazzi, ragazze, attenti. Guardate. Ma allora, se voi dovete massimizzare qualcosa, che funzioni è che vi conviene utilizzare? Delle funzioni? Concava e bravo, Fabio. Mentre se volete minimizzare qualcosa, vi serve utilizzare delle funzioni? Convesse. E infatti, vedrete che in microeconomia, questo è un messaggio del futuro, quando dovrete massimizzare una funzione di utilità, questa funzione magicamente sarà una funzione concava. Perché se dovete massimizzarla, meglio che la scegliete concava. In maniera che se fate gradiente uguale al vettore nullo, vi trovate nel massimo globale. Mentre, quando dovrete minimizzare una funzione di costo, vi converrà prendere una funzione che è convessa. Perché? Perché se se scegliete una funzione costo-convessa, a questo punto, se fate gradiente uguale al vettore nullo, trovate del minimo globale. C'è un qualcosa di più sottile, che adesso io vi spiego da matematico, quindi in modo poco ortodosso, ok? Ma che vedrete fatto benissimo dai vostri professori di microeconomia il prossimo anno, il prossimo semestre, il prossimo anno solare, il prossimo semestre. E cioè, il fatto di essere che le utilità siano concave, che i costi siano convessi, non è importante solo da un punto di vista matematico, ma è importante anche da un punto di vista economico. Attenti, proviamo a pensarvelo solo con la funzione di utilità, ok? Dire che una funzione di utilità è concava vuol dire che è fatta così. Ok? Concava? Ci ricordiamo prima, derivata seconda minore di zero, ogni volta che traccio la tangente il grafico è tutto sotto. Adesso, pensate un attimo, quando dico utilità, provate a pensare, pensatela, non è giusto, ok? I prof di micro se mi sentono mi picchiano, ma voi siete buoni e bravi e provate a pescare sull'intuizione di quello che vi dico. Provate a pensare che siete affamati, ok? E andate in un all you can eat. Allora, affamati, l'utilità è quanto quanto voi siete sazi. Allora, al primo piatto siete tanto contenti, vedete? già il secondo piatto però, vedete che siete meno contenti? E cioè, l'incremento di utilità. Questo è l'incremento di utilità. Qua incrementa, il primo piatto che mangiate eravate affamati, mamma mia, ho mangiato volentieri, mi è quasi passata la fame. Ne prendo un altro, però, lo mangio volentieri dello stesso, sono ancora contento, ma se qua sono stato contento dieci, qua sono contento solo cinque. al secondo, ma il piatto è lo stesso di prima. Ok? Al terzo piatto comincio già ad essere ancora peggio. E quindi qua, adesso, non vi butto di numeretti, ma avete capito che questo mi diventa sempre più piccolina. E questo ha proprio a che fare con il gusto, la struttura della funzione di utilità del consumatore. Nella maggior parte di microeconomia si utilizza una funzione di questo tipo. E cioè, si dice che a un certo punto nella prima parte abbiamo un incremento forte dell'utilità. la conversità fa sì che la funzione giri e poi quindi man mano che aggiungo la seconda unità e la terza unità non mi producono più l'incremento che mi ha prodotto la prima. ci siete? Allo stesso modo i costi. I costi abbiamo detto che sono generalmente convessi e qui io cerco di spiegarvelo così poi vi assicuro produrre una utilità può dire una unità di bene mi può costare un euro. Ok? Però se comincio a doverne pensate una all'ora se devo produrne due è caspita è più facile che le macchine si rovinino nel tempo e quindi nel momento in cui vado a fare la seconda non ho più due qui ma avrò tre come costo e cioè i costi tendono a diventare sempre più alti quanto più tendo a produrre a livello elevato. Ok? Queste due cose messe assieme vi dicono che generalmente quando vi trovate a massimizzare un'attività vi trovate una funzione concava perché è bella così risponde bene alle aspettative del consumatore e viceversa quando vi trovate a minimizzare una funzione di costo generalmente la funzione di costo è convessa perché perché cattura il fatto che più più mi trovo a produrre ad intensità elevate più è complesso e costoso produrre sono riuscito a spiegarmi? se volete per quanto riguarda il costo ad esempio se voi dovete produrre 500 panettoni ok e dovete invece produrne 1000 beh ad esempio devo comprarmi un'altra macchina per produrne 1000 non mi basta quella di prima che va al massimo e quindi il costo boom sale molto più rapidamente sono riuscito più o meno a spiegarmi avete colto? adesso se mi sentono i prof di micro mi mandano via immediatamente mi licenziano subito ok ma l'idea l'intuitiva che ci sta sotto è proprio questa e cioè che non solo sono belle queste funzioni concave converse da un punto di vista matematico ma sono interessanti anche da un punto di vista economico perché riesco a descrivere fenomeni microeconomici torna sono riuscito a spiegarvi sono riuscito a darvi l'idea vi lascio lo stesso la pagina mi lasciate stare non fatela vedere il professore di micro che mi piecchia va bene ok con questo chiudo la parte sulle condizioni necessarie e sufficienti adesso invece abbiamo una bel pezzo di lezione che a voi interessa sicuramente di più che ha a che fare ovviamente con la domanda di teoria e cioè prof che cosa mi chiede sulla domanda di teoria relativa relativa all'ultima domanda e quindi relativa alle funzioni più variabili vi chiedo questo adesso la maggior parte dei testi di queste domande come tutti i testi delle mie domande sono più o meno sono più o meno gli stessi ok quindi bisogna leggerli bene non impararli a memoria perché se no vi seguo e cercare di capire cosa ci sta sotto il gradiente di una funzione a più variabili f coincide con il vettore nullo nel punto p interno al dominio della funzione tradotto gradiente di f in p uguale al vettore nullo o uno qualcuno di voi potrebbe dirmi prof cacchio vuol dire nel punto interno al dominio della funzione ma hai visto questa cosa qua vuol dire che stiamo pensando di poter fare le derivate perché se fossimo su un punto che non è interno al dominio esempio immediato e facile in dimensione 1 che vi spiega subito tutto se io ho la radice quadrata e questa è definita in 0 più infinito quando ci faccio la derivata prima ottengo 1 fratto 2 radice quadrata che è definita in 0 escluso più infinito ok vedete che ho perso ho perso il punto il punto 0 che c'era nel dominio della funzione l'ho perso quando ho fatto la derivata ok quando dico punto interno al dominio vuol dire che posso fare la derivata e sono qui dentro non sono sul bordo della funzione dove non so come si comporta ok detto malissimo ma è quello che vi serve per l'esame quindi il gradiente di una funzione coincide nel vettore nullo insegniamo le cose importanti il gradiente il gradiente della funzione coincide con il vettore nullo del punto p inoltre la matrice essiana della funzione calcolata nel punto p del dominio convesso è definita positiva allora fermi qua un attimo gradiente uguale a vettore nullo e matrice essiana definita positiva cosa vuol dire ricordiamoci ieri cos'è gradiente definita positiva ricordate parabola rivolta verso l'alto verso il basso la parabola definita positiva rivolta verso l'alto definita positiva quindi cos'è che abbiamo un minimo ci siete essendo definita positiva è un minimo locale stretto perché locale non globale perché è calcolata solo nel punto p non tutti i punti del dominio come abbiamo fatto nella prima parte della lezione mi seguite quindi chiaramente è un punto di sella no intanto definita positiva sicuramente è un minimo quindi massimo lo butto via sella lo butto via minimo locale stretto o minimo globale che differenza c'è tra questo e questo quando potrei scrivere minimo globale bravissimo fabio quando calcolata non nel punto p ma in ogni punto p del dominio convesso della funzione e quindi l'unica possibilità è quella minimo locale stretto perché è definita positiva ricordate ieri abbiamo visto questo definita positiva minimo stretto semidefinita positiva posso dire semplicemente invece che è un candidato Lara il gradiente della funzione a più variabili coincide con il vettore nullo nel punto p interno al dominio della funzione inoltre la matrice siana calcolata nel punto p del dominio convesso è indefinita cos'è questo punto Masella ok alessandro che ho visto entrare prima ho visto alessandro eccolo alessandro in un punto p tutti tutti i minori principali di guida minori di guida quindi abbiamo calcolato la matrice siana in un punto p e abbiamo trovato che tutti i minori principali sono strettamente positivi maggiori stretti di zero com'è che è la matrice siana in quel punto come attenzione strettamente positivi definita positiva ok non ti ho sentito bene sei alessandro quindi può essere che tu abbia non ti ho sentito bene quindi può essere che tu abbia detto giusto e non l'ho capito io allora il gradiente di una funzione ha più variabili coincide con il vettore nullo nel punto interno al dominio della funzione inoltre la matrice siana calcolata nel punto p quindi solo in p è definita negativa Francesca dove è Francesca? Francesca definita negativa cos'è il punto? guarda negativa pensiamo alla parabola negativa rivolta verso il basso massimo locale stretto posso dire che è globale? perché è solo nel punto bravissima è solo nel punto e quindi è un massimo locale stretto vedete ragazzi che adesso facendoli assieme diventano facili scusate mi fermo un attimo e torno indietro a quella di prima adesso vi faccio una cattiveria ma occhio che è una cattiveria che c'è l'esame perché l'ho messa dentro l'esame questa domanda qua me la ricordo adesso vi cambio la domanda e vi scrivo così in una funzione a più variabili f la matrice siana della funzione calcolata nel punto p del dominio convesso di r è definita negativa allora il punto p allora ci servirebbe un'altra alternativa qui ma voglio che ragioniate e me la diciate voi l'alternativa che manca lì e cioè ho tolto questa roba qua pensatela in dimensione 1 pensatela in dimensione 1 se voi sapete che la derivata seconda della funzione in un punto è negativa potete dire qualcosa di quel punto può essere qualsiasi roba posso saperne io di quel punto lì mi seguite ragazzi è chiaro che quando io parlo di condizioni necessarie condizioni sufficienti cos'è che facciamo pensate all'inizio abbiamo prima calcolato gradiente uguale a vettura nullo e abbiamo pescato tutti i punti i massimi locali i minimi locali i punti di sella abbiamo pescato tutto e poi abbiamo calcolato la matrice siana in questi particolari punti se io conosco solo che la matrice siana in un punto è definita negativa io di quel punto non posso dire niente perché chissà lì potrebbe essersi il gradiente è diverso dal vettore nullo se il gradiente è diverso dal vettore nullo a questo punto io non so dire niente e quindi qui la cosa più corretta sarebbe nessuna delle precedenti oppure delle alternative presenti mi avete capito? e cioè attenzione a non fare confusione la prima parte in cui vi dice vi dico il gradiente della funzione uguale a vettore nullo non è inutile è fondamentale perché se io la tolgo e vi do solo la matrice siana vi manca un pezzo nelle condizioni necessarie e sufficienti gradiente uguale a vettore nullo se manca quello solo con la matrice siana non ci fate niente perché come dire derivata seconda minore di zero e vi dico eh grazie allora chi se ne frega mi avete seguito grazie a tutti il gradiente della funzione più variabile f coincide con il vettore nullo nel punto P interno al dominio della funzione inoltre la matrice siana calcolata in ogni punto del dominio convesso attenzione Fabio cosa vuol dire che se la funzione se la matrice siana calcolata in ogni punto del dominio convesso è definita negativa che la funzione è attento attento prima dimmi come è la funzione definita negativa vuol dire che la funzione concava bravissimo quindi abbiamo un massimo globale definita bravissimo Fabio ragazzi e ragazze mi state seguendo mi avete capito il gradiente di una funzione più variabili coincide con il vettore nullo in un punto P interno al dominio della funzione inoltre la matrice siana calcolata nel punto questa volta è semidefinita negativa attenti vi ricordate cosa ho detto quando è semidefinita negativa sono soddisfatte le condizioni necessarie ma non le condizioni sufficienti e quindi in questo caso io non so se quello che ho trovato intanto semidefinita negativa parabola rivolta verso il basso se è un massimo ok ma non sono proprio sicuro che sia un massimo allora un minimo no via e mi danno poi mi danno un punto di massimo locale locale stretto e un candidato cosa mettereste c'è parte che c'è scritto sotto ci vuole un genio ma e allora o B o C chiaramente siccome sono sono soddisfatte sono le condizioni necessarie io non sono proprio sicuro che quello lì sia un punto di massimo ok perché le condizioni necessarie mi dicono se è un punto di massimo allora la matrice siana in quel punto è semidefinita negativa ma se la matrice è semidefinita negativa non è la freccetta che mi torna indietro potrebbe essere anche di sella non lo so e quindi in questo caso devo dire un candidato massimo locale perché sono soddisfatte solo le condizioni necessarie non le condizioni sufficienti che mi garantirebbero che mi sarebbero garantite dalla matrice definita negativa se fosse definita negativa scriverei un massimo locale stretto ma purtroppo è solo semidefinita negativa e quindi sono soddisfatte non le condizioni sufficienti ma solo le condizioni necessarie e a questo punto devo scrivere un candidato torna dubbi problemi mi avete seguito occhio questa è un po' carogna ok quindi leggiamola bene in un punto P tutti i minori principali di guida ok allora minori principali minori principali di guida della matrice si ha tre variabili quindi vuol dire che ci sono tre ordini primo ordine primo secondo e terzo secondo tutti i minori principali di guida sono strettamente negativi allora vuol dire che qui c'è una quantità qui c'è una quantità qui c'è una quantità e questa quantità è minore di zero minore di zero e minore di zero allora la matrice siana è uno dice mannaggia sono tutti negativi proviamo a pensare un attimo se fossero tutti positivi la matrice siana sarebbe bravissima definita positiva se si alternano in segno partendo dal minore è definita negativa ma qua non si alternano in segno ne ho uno che fa così però attenti per dire che è indefinita dovrei la necessità di dire che non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa concordate purtroppo però qua mi danno informazioni sui minori principali di guida non sui minori principali allora come faccio a fare questo esercizio mi sembra che manchino di dati cioè io so che non è definita positiva so che non è definita negativa ma oh che come faccio adesso a dire che non è che non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa se non mi dicono niente sui minori principali e mi dicono solo i principali di guida è un mondo triste che fanno allora vediamo un attimo provo provo a girare intorno al tuo al tuo al tuo ragionamento ma ci siamo vicini e allora il vostro collega mi dice beh ma io adesso qui dovrei controllare io dovrei controllare che perché sia definita positiva che tutto quello che abita qui dentro è maggiore uguale a zero maggiore uguale a zero e maggiore uguale a zero e quindi e invece per definita negativa dovrei controllare che questo qui sia minore uguale a zero questo qui sia maggiore uguale a zero cambiando il segno e questo qui minore uguale a zero giusto però io vedete che non ho informazione su questi ma ho informazioni solo su questi ho qui l'informazione io come faccio a fare qualcuno viene qualche idea bravissima eccola la risposta la vostra collega dice i minori principali di guida sono anche loro dei minori principali quindi vuol dire che qui in questa posizione qua c'è un qualcosa di minore di zero ma allora se lì c'è un qualcosa di minore di zero strettamente minore di zero non può essere né semidefinita positiva perché dovrebbero essere tutti maggiori e uguali ma neanche semidefinita negativa perché lì dovrebbe essere maggiore o uguale per semidefinita per semidefinita negativa mi avete seguito ok e quindi guardate ragazzi questa è una posizione critica ci è capitata ieri ok ci è capitata ieri ma non ve l'ho enfatizzata perché non volevo farvi casino ma ogni volta che in una matrice siana i minori vi compare un minore principale di ordine 2 occhio minore principale di ordine 2 negativo basta quella è indefinita di sicuro perché se c'è qualcosa di negativo lì nel quadratino nel cerchietto nero che ho fatto ok lì questo fa sì che non possa essere né semidefinita positiva e neanche semidefinita negativa quindi sicuramente è indefinita chiaro dubbi in un punto p tutti i minori principali della matrice siana della funzione tra i variabili sono maggiori o uguali a zero minori principali tutti i maggiori o uguali a zero allora in p la matrice siana è questa è facile abbiamo appena detto se tutti i minori principali sono maggiori o uguali a zero la matrice è semidefinita il massimo che posso dire è semidefinita positiva attenti potrebbe addirittura essere definita positiva ma non ne sono sicuro mi hanno detto solo maggiori uguali quindi se ce n'è qualcuno di uguale non posso dire che è definita positiva vi torna il gradiente di una funzione a più variabili coincide con il vettore nullo nel punto p interno al dominio della funzione inoltre la matrice siana della funzione calcolata nel punto p occhio del dominio convesso è semidefinita negativa allora negativa la parabola è rivolta verso il basso sicuramente se c'è qualcosa è un massimo ma è semidefinita quindi quindi è un bravissimo Filippo un candidato massimo non posso essere sicuro qua mi dicono sella no minimo c'entra niente massimo locale stretto candidato massimo massimo globale no nessuno dei precedenti va bene mi torna il gradiente di una funzione a più variabili F coincide con il vettore nullo nel punto P interno al dominio della funzione inoltre la matrice siana calcolate in ogni punto matrice siana metto Q adesso è def pose per ogni Q appartenente al dominio di F convesso ma se una matrice siana è definita positiva parabola riguardo verso l'alto in ogni punto del dominio convesso definita positiva vuol dire che la funzione è strettamente convessa quindi il punto è un minimo globale stretto via massimo via sella minimo globale stretto e con questo abbiamo finito anche la domanda 4 dubbi problemi mi avete seguito vi torna adesso ci manca domani l'ultimo argomento del corso di matematica generale che è la ottimizzazione vincolata dove andremo introdurre una particolare funzione che si chiama funzione lagrangiana funzione di lagrange e ci permetterà di trovare i punti stazionari anche per i punti per i problemi di ottimizzazione in cui è presente un vincolo ma lo vediamo domani con calma avete dubbi problemi c'è qualcosa che non vi torna vi regalo 8 minuti di vita ok va bene ok Grazie.